Medioevo, ma ne ha. Un piccolo feudo sotto il mondo. Il mistero principale era quello del cuntadino. Dopo che era qualcuno che aveva il bosco a tagliarvi, qualche marangon, era una vita grama, fatta di fadie e sfuarci. Una siccità che ogni tanto faceva il cucù e rovinava i progessi. E se già era una vita grama, la gente aveva in cerchia di strumenti affidabili che gli facessero il lavoro più facile. E a preparare questi mesi di lavoro per tutta la truppa allora, gli pensavano al nostro eroe. Il fabri. I fabri, che qualche volta aveva vinto il nome come i fabri da grosso, erano buoni da fare, gassi e tramari per il cuntadino e per il bosco. Falcini, roncetti, manari, assi. Vengono signori, vengono! O chi ha le dito per tutto. Ad ora, nel 1430, Nicolò diventa Conte di Mania. Nicolò era sguardo. E quando la salute che in Europa si deviava con cani, laga dai flumi, per irrigare i chiams e nuovi rodici idraulici che produssevano energia per leggerire la fadia dalle persone, allora pensa bene di muovirsi per portare la ultima moda a Mania. Dal 1445, il Conte Nicolò va a Vinesia per domandare la concessione di scavare un o o più di un canale lungo il celino e la colbra. A lui era che coventavano per irrigare i chiams, ma la calera l'ha domandato. Va a saber se non ti coventa un domani. Il permesso per costruire molins e ciels. Il cazzo della colbra sarebbe in giù a Penel per dare energia a tutti i baraconi. Una volta acchiappata la concessione, Nicolò va a far partire i lavori. Ma prima di arrivare a far attaccare i pali dei mulini, attacca ben qualche altro dei popolini. Bravo il Conte, pensai a noi, ma da che si passava col corretto adesso? E allora, intanto che scavavano via Paldì, via Pallanotte gli operai si riempivano di scondoni i fossali. Baruffons, tanto che l'ha da intervenire il rappresentante di Vinesia per stabilire che, sì, signor Conte, ti puoi scavare le cannellette, ma ti ha anche da dare un par di ponti di piedra e fioi qua. Sennò come vale a cercare le mele a Fana? Che, con tutto il tempo che sarà passato, che volta le probabil che sia di amistà mele moderne? Con la mediazione del leone si ferma la baruffa e sul canale vengono costruire ponti e diversi fabriques che sfruttavano la forza dell'agra. I fabris vedono l'opportunità di tornare a casa con la borsa un po' manco plena di fadìa, a pensare ben di doprar i rodis per far partire i maes che avessero battuti in fiera al post loro. Anessero così i primi batà fiera. E' la pausa del caffè per seguità che il mele batteva, però... Dopo il primo passo a maniare l'art del fabri si è sviluppata con una gran premura. A un certo punto si è fin attaccata a far armes e intanto l'art dei fabris aveva indenato con il suo sviluppo fino a far conoscere maniare in tutto il mondo. Dal 7 cento la gente attacca a fare la bocciuta e a voler strumenti per i finis. Ha nascuto così il fabri da fin, che si dedicava a oggetti di piccole dimensioni come i cortis, i temperini, i fuarfi... Il reparto di marketing e distribuzione lo garantiva la Valcellina, che il suo venditore di ambulanza portava i prodotti da parte. Col tempo, a partire dalla lama del cortis, ogni d'un arriva a specializzarsi. Paletti per i turbini, ingranati di precisione, bisturi... tutte le robe più strane con un punto in comune. L'eccellenza e l'autenticità di una storia lunga 600 anni.